Una campagna elettorale alquanto accesa a Catanzaro, dove l'11 giugno i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco tra il primo cittadino uscente Sergio Abramo, candidato per la quarta volta, espressione del centrodestra e sostenuto da sei liste, Forza Italia, Catanzaro da vivere, Obiettivo Comune, Catanzaro con Sergio Abramo, Federazione Popolare per Catanzaro e Officine per il Sud. Per il centrosinistra il consigliere regionale Enzo Ciconte, che nel 2014 fu il candidato al consiglio regionale più votato per il centrosinistra in città, oggi sostenuto da 11 liste, PD, UDC, Svolta Democratica, Socialisti e Democratici con Maurizio Mottola di Amato, PSI, Salviamo Catanzaro, Catanzaro in rete, Fare per Catanzaro, Pensionati d'Europa, Alleanza Civica per Catanzaro e Primavera Catanzaro con IDV. Il docente di diritto islamico all'Unical, Nicola Fiorita, il cui padre fu sindaco della città nei primi anni 90, con tre liste civiche, Cambiavento, Catanzaro 1594 e Insieme per Fiorita, composte da giovani e professionisti e da quella parte di PD che non ha condiviso la candidatura del consigliere Ciconte. Unica lista per la professoressa Grillina, Bianca Laura Granato, alla sua prima esperienza politica. Il rinnovamento, la parola chiave di questa campagna elettorale, che se da una parte vede Abramo fare leva su volti nuovi, solo sei dei suoi candidati consiglieri sono consiglieri uscenti, dall'altra Ciconte, che chiuderà la sua campagna il prossimo 7 giugno e che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con un candidato ripreso in un video con due pregiudicati, ha nelle sue fila 18 consiglieri uscenti. Intanto punta al ballottaggio il leader del movimento Cambiavento, in queste ore al centro di una polemica con il coordinatore provinciale di Forza Italia, Domenico Tallini, mentre il Movimento 5 Stelle accoglie in città il deputato Alessandro Di Battista. Rossella Galati per la CNews24.